Destini, il tuo ritorno, poi ti lascio anche a domande dal studio, ci ha davvero impressionato perché avevamo visto che eri forte, puoi crescere ancora tanto, ma il fatto che dopo un break forzato per l'infortunio muscolare, sei subito rientrato alla grande e sferato anche un gol. Sì, grazie, ci tenevo tanto a rientrare, poi in una partita così bella contro la Roma ci tenevo a far bene, poi peccato per il risultato ma siamo stati giusti. Per come siamo in questa partita abbiamo deciso di aspettare un attimo per non concedere tanto agli avversari e poi cercare di ripartire in ripartenza, quindi si è messa un po' così ma non ho preparato in questo modo.